Una struttura lunga 8 metri e larga 4 di veloce montaggio che potrà essere utilizzata anche come dormitorio collocando all'interno delle brandine oppure come mensa con dei tavoli e delle panche professionali. Una seconda casa con porta e finestra e pareti di materiale impermeabile, antivento e dignifugo in cui la popolazione in caso di alluvioni e terremoti potrà trovare riparo. È il gazzivo di 32 metri quadri donato come regalo di Natale agli angeli gialli di Monastierra nel Trevigiano dal presidio ospedaliero Giovanni XXIII per gli interventi di emergenza e di soccorso nell'ambito di protezione civile. Il gazebo pieghevole è stato allestito per la prima volta nel piazzale della sede di Monastierra. Oggi abbiamo montato per la prima volta il gazebo donato da casa di cura Giovanni XXIII di Monastierra alla protezione civile di Monastierra e verrà utilizzato per tutti i casi di emergenza che può essere l'alluvione, terremoti, un albero, qualsiasi servizio può essere utile alla popolazione. È facile da montare perché basta aprirlo e non ci sono pali e quant'altro. I teli vanno agganciati col velcro e l'utilizzo può essere come dormitorio per brandine oppure come mensa con tavoli e panche per la popolazione che ha bisogno di essere riparata dall'intemperie e dal freddo a tutto quanto. È dotata di una base a terra con i lati rialzati che consentono anche nei casi di pioggia di preservare dall'umidità le persone ospitate all'interno. Un lavoro è incommiabile quello svolto dalla protezione civile di Monastierra. Hanno sfidato il caldo estivo, hanno sfidato il freddo, il vento, la pioggia, la nebbia assicurando ai cittadini del territorio un'assistenza essenziale. È un'ottima attrezzatura e anche un bel gesto appunto da parte della Sogedin, della Casa di Cura, insomma questo di donare la protezione civile. In questo paese davvero in questi mesi ma non solo, anche prima abbiamo sperimentato il risultato buono del gioco di squadra nell'affrontare anche appunto emergenze o anche nel fare le semplici attività e questo dimostra ancora di più insomma che c'è una sensibilità particolare. Grazie a tutti.